ciao a tutti sono beatrice pantanelli e lavoro al giardino di santa maria e quest'anno abbiamo fatto anzi l'anno scorso che siamo già nel 2021 abbiamo fatto un bel lavoro con rossini tv e devo dire che è stato molto utile un bel ritorno c'era tanta gente che veniva e diceva beh vi ho visto in televisione e ho voluto scoprire le meraviglie di questo posto noi siamo stati molto contenti di questo servizio per cui direi che continueremo quest'anno ad avvalerci dello staff prezioso della di rossini tv e lo consiglio anche ad altri caldamente giardino di santa maria fiori piante profumi e oggettistica a pesaro in via santa maria delle fabbrecce 29 info allo 0721 24 911 pagina facebook giardino di santa maria